Iscriviti al canale e attiva la campanella, per restare sempre aggiornato. Nuovi concorrenti al GF VIP 7, a breve. Nella casa faranno il loro ingresso la bellezza di sei nuovi personaggi. E se Daiane Mello e Elena Prestes sono praticamente certe, entrambe si trovano a Roma. Pare che potrebbero arrivare anche Luca e Gianmarco Onestini. Luca Onestini sarebbe dovuto entrare nella scorsa edizione ma poi, anche per via della presenza di Soleil Sorge, il suo ingresso è saltato. Oggi, secondo le anticipazioni di casa Pipole e Dejanira Marzano, pare che l'ex tronista sarebbe pronto ad entrare al GF VIP insieme al fratello minore. Parpiglia, tra una indiscrezione e l'altra, ha parlato di sei nuovi ingressi. Se consideriamo Luca e Gianmarco come due concorrenti distinti e ci aggiungiamo anche Daiane e Elena. Saliamo a quota quattro nomi. A loro potrebbe aggiungersi anche Akash Kumar, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, dove aveva già ampiamente dimostrato la sua poca propensione per i reality e il poco interesse del pubblico nei suoi confronti. L'ultimo nome. Si parla di nuovo di Patrizia De Blanc ma anche di Umberto Smila, forse in coppia con il figlio. Insomma, un pesca e ripesca dalle vecchie edizioni del GF VIP e qualche scarto di altri reality. È possibile che non ci sia qualche nome interessante che non abbia mai partecipato? Ci manca solo il ritorno di Alex Belli, che non mancherà nelle prossime edizioni. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.